Buongiorno a tutti quanti, questo pomeriggio fa abbastanza frescolino Oggi è mercoledì 18 ottobre 2023 Alle ore 15.58, 18.10 Ci sono 13 gradi, 13 gradi, fa frescolino oggi È arrivato l'inverno, purtroppo è arrivato l'inverno Vabbè, prenderemo come va Ci sentiamo più tardi, siamo qua a videopompia Ciao a tutti, ciao ciao, a dopo